Bene, ci troviamo qui a Pestum con Domenico, ci troviamo in inaugurazione di Casa Rubini. Puoi spiegarsi un po' la tipologia di Casa Rubini, che cos'è? Casa Rubini è nata dal restauro conservativo di un vecchio edificio del 1700 che abbiamo ripreso totalmente per ricavarne sei camere, quindi funziona come bed and breakfast, come attività di affitti da camere e una piccola taverna, qua dove ci troviamo adesso, dove noi abbiamo pensato di offrire alla nostra clientela il meglio un po' della tradizione culinaria campana. Noi infatti siamo proprio caratterizzati con i cibi campani, noi abbiamo vini e cibi esclusivamente della campania, abbiamo molti presidi slow food tra la nostra offerta culinaria, insomma. E vedo che alle nostre spalle di Casa Rubini c'è il templo di Pestum? Ci troviamo proprio a poco più di 100 metri dall'area archeologica di Pestum, quindi anche alcune delle nostre camere affacciano direttamente sui templi, quindi diciamo è una zona un po' di eccellenza e abbiamo cercato anche architettonicamente di rispettare al massimo le caratteristiche della zona, infatti anche nel locale se lo si guarda bene ci sono tanti inserti in pietra della costruzione originale. Dell'Ottocento? Sì, degli inizi dell'Ottocento, risale agli inizi dell'Ottocento, tutto questo vicolo, vicolo delle tavernelle risale agli inizi dell'Ottocento e questo qua è un vicolo che spero che piano piano venga anche un po' rilanciato perché è un vicolo che ha delle grandi potenzialità, già che si chiama delle tavernelle richiederebbe un po' di locali, un po' di vita, ovviamente sempre nel pieno rispetto del posto in cui ci si trova perché noi che siamo nati in questo posto, noi che abbiamo mossi i primi passi, il cuore è pesto e noi che abbiamo mossi i primi passi in questo posto siamo legati proprio visceralmente a questo posto, quindi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo, piccolo al rispetto e al rilancio di questo posto. Al rilancio anche per i turisti. Domenico, Casa Rubini si trova in via? Via Tavernelle 3, 5 e 7. Ovviamente Pestum, vi salutiamo da Casa Rubini.